In prefettura, nel corso del tavolo richiesto da Moliseacque, si è parlato dell'emergenza idrica in regione. Un dato del senso del problema. Le sorgenti del Molise sono al di sotto della soglia minima dei 900 litri al secondo. Appena una settimana fa, la sorgente del Matese, che serve Campobasso e gran parte del Molise centrale, erogava 1.400 litri. Il presidente di Moliseacque, Sabatini, ha parlato di calamità naturale. Le sorgenti sono ad un terzo della portata e di questo passo sarà impossibile fornire acqua ai comuni. L'unica soluzione percorribile è interrompere il flusso idrico notturno in tutti i paesi del ramo destro. Proprio per annunciare questo, nei prossimi giorni saranno convocati in prefettura i 40 sindaci dei comuni interessati per esortarli a chiudere i serbatoi nelle ore notturne, come già accade da alcuni mesi a Campobasso e nell'Interland. Nella grave situazione ha preso atto anche il comune di Campobasso, che aveva diffidato Moliseacque, ma Colucci ha chiesto conto dei piani industriali di Grimm e Moliseacque da mettere in atto per superare la crisi. Certo, il problema è così grave anche per il dissesto della rete idrica. Bene, su questo fronte si registra un'importante novità. Sarebbe, indirittura, d'arrivo la ripartizione di un miliardo e mezzo di euro destinato all'ammodernamento della rete idrica delle regioni del sud, un finanziamento del governo di cui beneficerà anche il Molise.